Dottor Silberto Neri, poco fa il dottor Cipolla ci ha anticipato uno dei temi che saranno trainanti nel 2015 e sarà relativo all'impact investing. Come mai questa scelta, come mai questa esigenza di seguire questo filone? Beh sicuramente dovuto a scelte di sensibilità aziendali poiché il gruppo che noi rappresentiamo ha sempre creduto molto nel filone sociale e ambientale. In seguito il Lussemburgo si è fatto promotore di questa categoria nuova di fondi di investimento l'impact investing appunto ha impatto sociale e ambientale. Noi crediamo come gruppo, come Selectra Management Company, che ci sarà un grande sviluppo per questa tipologia di prodotti. Abbiamo già riscontrato dei feedback molto positivi a livello di clientela sia istituzionale che private e conseguentemente ci siamo strutturati in maniera tale da dare una risposta coerente e professionale a tutti coloro i quali volessero approcciarsi alla nostra Management Company per realizzare questa tipologia di veicoli. Parliamo ora di sviluppo. In quali mercati geografici in particolare pensate di rivolgervi nel 2015 ma anche nel lungo termine? Beh, le più grandi soddisfazioni fino a questo momento le abbiamo ottenute certamente a livello europeo. A livello di gruppo ci siamo sempre focalizzati molto su mercati di riferimento come l'Italia e come la Svizzera ma una presenza anche importante e dei feedback molto positivi li abbiamo avuti a livello UK. Sicuramente noi siamo alla ricerca costante di nuovi investitori, di nuovi clienti e non ci poniamo grandi steccati ideologici a ricercare questi clienti in mercati anche a livello extraeuropeo compiendo un'azione comunque globale a livello di gruppo.